Un autobus con a bordo una ventina di profughi ucraini in viaggio verso Pescara sull'autostrada A14 questa mattina è uscito di strada e una giovane donna ha perso la vita. Nell'incidente avvenuto intorno alle 6.30 sono rimaste ferite altre persone che sono state prontamente soccorse dagli operatori del 118 e non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale. Erano due i pullman a bordo dei quali c'erano soprattutto giovani donne di nazionalità ucraina che viaggiavano in direzione sud. Uno dei mezzi è finito fuoristrada, si è ribaltato nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone e nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto è arrivato un altro pullman per consentire loro di proseguire il viaggio.